Buonasera a tutti, sono Marco Sudera e sono un attore, sono andato a Roma il 31 marzo del 2003, dunque ho 20 anni e attualmente vivo a Ciampino con la mia famiglia. Per descrivere brevemente la mia persona, sono un ragazzo solare, estroverso, anche un po' timido con le persone che incontro durante le mie esperienze di vita, diciamo. Nella mia vita ho coltivato anche molte passioni, quella più importante per me è ovviamente la recitazione, che è anche un collega che mi ha aiutato a superare forse il momento più difficile della mia vita, però nel tempo libero, visto che ho papà che è appassionato di musica, suono anche qualche strumento, infatti ho suonato il pianoforte per all'incirca 6 anni e anche la batteria per 3-4 anni. Nella mia vita ho praticato anche molti sport, tra cui troviamo il calcio, palla a volo e palestra normale, calisthenics e attualmente sto facendo crossfit. Questi sono i miei profili. Grazie e l'ascolto.